il giorno in cui gesù venne crocifisso venne crocifisso con altri due malfattori intanto la gente lo insultava gli diceva cose orribili anche uno dei due malfattori gli diceva salva te stesso hai detto che sei così bravo fallo e poi salva anche me mentre l'altro diceva ma non ti vergogna parlare così noi siamo crocifissi perché abbiamo sbagliato lui non ha fatto niente e poi disse a gesù ricordati di me quando sarai in paradiso e il signore gesù gli rispose oggi stesso tu con me sarai in paradiso